Un microscopio operatorio di ultima generazione nel campo della microchirurgia oculare che consente la visione del segmento posteriore dell'occhio con una completa panoramica di tutte le strutture anatomiche endoculari. È lo strumento computerizzato ed automatizzato donato dal Calcit per un costo di 116.000 euro al reparto di oculistica dell'ospedale San Donato di Arezzo. Questo è uno strumento che va al reparto di oculistica, un reparto ovviamente sensibile. Mi preme anche ricordare a questo riguardo che nello statuto del Calcit c'è scritto che nel caso di scioglimento quello che rimane va all'associazione ciechi civili. Perciò è una sensibilità che il Calcit ha avuto sempre sia verso i problemi del tumore dell'occhio ma anche verso tutti quelli che sono i problemi della vista. Il microscopio operatorio, già in dotazione del reparto oculistico, dispone di una connessione Wi-Fi in grado di comunicare durante gli interventi chirurgici con gli strumenti per la diagnostica oculare. Oltre ad avere un'ottima risoluzione ci consente, come possiamo vedere, di registrare tutte le immagini quindi noi, mentre operiamo, siamo in grado di vedere la patologia valutata con strumentazioni diagnostiche. Questo microscopio operatorio è un'innovazione ulteriore, è inserita in un reparto d'eccellenza del nostro ospedale. Abbiamo dei grandi professionisti e abbiamo una grande associazione che si chiama Calcit alla quale dobbiamo tutta la riconoscenza, non solo noi, ma la cittadinanza.